Del Brighton ti posso dire che mi sono divertito da morire Secondo me tutto torna Come dice mio amico Lele, mio fratello Lele, padre Tempo, torna tutto E avevo scelto di andare allo Shakhtar Una squadra favolosa, ecco Quando si dice una squadra favolosa Stava venendo fuori una squadra Poi non so se avremmo vinto o no Avevamo vinto la Coppa Supercoppa 3-0 con la Dinamo Kiev di Lucescu Proprio giocando benissimo, eravamo primi Però stava crescendo, avevamo preso Neressa Figurati che i quattro esterni d'attacco erano Neressa a destra, Mudrica a sinistra E in panchina, panchina alternative, Tete e Salomon Tete che è andato a Lione e poi a Leicester E Salomon che ha giocato col Fulham quest'anno Che ha fatto diversi gol anche Stava nascendo una squadra fortissima Fortissima, era anche mentalizzata Perché i brasiliani adesso non sono più i brasiliani Che vengono con la ciancletta, con la ciabatta Sono i brasiliani con tutto il preparatore personale Squadra fortissima E da un giorno all'altro l'ho persa Guerra, casino, scappa E l'ho sofferta molto All'ilà della guerra Che poi uno non si dà mai una spiegazione Parlando di calcio Mi avevano strappato la mia creatura Che stavo giorno dopo giorno Crescendo, lavorando E quindi tornato in Italia Non volevo allenare per l'estate Non ho rifiutato tutto quello che mi veniva E sai, appena iniziano i campionati Poi la voglia di riniziare Ti viene? Mi viene, guardavo partite, partite, partite E ho trovato un posto che mi ha ripagato di tutto Mi ha ripagato come valore dei giocatori Come persone, innanzitutto Perché il primo periodo è stato difficilissimo Lingua diversa Abitudini diverse Day off Day off Sai che Lunedì, martedì allenamento Mercoledì libero Giovedì e venerdì allenamento Quattro allenamenti Io quando allenavo a Darfo In serie D ne facevo cinque E mi sono trovato In Premier League a farne quattro Calcio diverso Loro volevano allenamenti I giocatori allenamenti corti Un'ora, un'ora e cinque Con poca tattica Tutto gioco Quindi io Ho cercato di Modellare La mia idea Alle abitudini anche loro Togliendo di mio zero Però Siccome il giocatore è l'unico mio interlocutore L'unico mio interlocutore è il giocatore Piano piano abbiamo trovato la chiave E ho trovato delle persone fantastici Lingua, non lingua Il rapporto Uno dei migliori che ho avuto con squadra è col Brighton Abbiamo inseguito il sogno Perché io dopo A metà febbraio Nello spogliatore parlavo di Champions League E quando ho iniziato a capire Che anche i giocatori Parlavano di Champions League Europa League Ho detto Qua o stiamo andando fuori dal vaso Oppure Si fa il miracolo O esce qualcosa di grosso E mi sono divertito Mi sono divertito Da morire proprio Però quando il Brighton giocava E giocava così bene E dava delle rumba A tutti Cosa pensavi tu Ti ho detto Tu non so se hai visto il filmato Quello del ringraziamento mio alla squadra Ed è la verità Tra l'altro Le cose più belle Sono quelle che ti escono Così dal cuore Spontaneo Ho detto Quando Ti sta andando tutto bene Lavorativamente Stai vivendo un sogno Il problema è che E prima o poi deve finire Sto sogno E prima o poi finisce La paura è quella Ma ti dico Sono tornato in Italia Il primo giugno Oggi è il 12 Mi sono già rotto le palle Di stare a casa Vedo l'ora di riniziare Ad allenare Ma lo sai perché lo so Indirettamente Io so Una persona che sta molto con lui Che lavora con lui Quello Devono farlo santo Parte di carriera con te E poi con me Agostino Timaldi Che lavora con Roby È stato con me Tanti anni Il mio preparatore Ha detto Io ho visto tanti 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 allenatori Che pensano al calcio Io dico O io non sono normali O lui non è normale Dico perché Ago Ma 24 su 24 realmente Lui delle volte non dorme Fa fatica a dormire È il prima ad arrivare Calcio Calcio Vai a cena Calcio Vai a un teatro Calcio Per lui calcio E lui si preoccupa E delle volte lui fa le battute Ago È più matto Chi è peggio Sì Tu immagina Nella stessa squadra Lui è allenatore O giocatore O veniva fuori Qualcosa di unico Sono le sue sfide quelle A lui piace quelle sfide Questo è solo i tuoi No parla di questo aspetto qua Che non è Comune Invece lui Di questa cosa Ne parliamo da sempre Più uno è discusso fuori Ma c'è il talento Quello cristallino Quello da lavorarci Da metterci proprio La passione umana Non sto parlando di calcio Più lui Si arrappa Ma sì È vero È vero Ma perché sai Tutta la stampa italiana Mi descrive come un malato Di calcio Il filosofo Non ha capito niente Perché io sono malato Di tattica Ma L'aspetto tattico Nel lavoro mio Non supera Il 25-30% Tutto il resto È gestione Tutto il resto È Gestione mia Mia A modo mio Senza seguire Canoni O cose Prefatti Non ha presunto indicazione Esatto E io penso che Siccome io ero Un complicato Nella gestione Da calciatore Però Proprio perché ero complicato Riesco Probabilmente A capire Più facilmente Le persone Un po' più complesse Le persone complesse Sono le persone Fermo Antonio Che ti sto spiegando No no Sto vedendo lì Cosa ha scritto Quel ragazzo là Tuo tifoso Roberto Col cuore Sei un genio Le persone Complesse Sono quelle più sensibili Le più sensibili Sono le più intelligenti Perché si fanno domande Hanno dubbi Hanno E se tu riesci A Essere leale A essere coerente Con questi qua Questi ti ripagano Dieci volte Più di una persona normale Oltretutto Tutti i talenti Hanno qualcosa Che C'è un lato oscuro Sì che è disordinato Qua è irregolare Chi ti dà di più Sono sempre Alla fine I talenti Un allenatore Chi ti fa vincere le partite Sono i talenti A me chi mi fa divertire Un talento Possa essere Un centrale difensivo Un centrocampista Un attaccante E io su quelli Mi piace Mi piace Mi piace perdere tempo Mi piace Farlo migliorare Mi piace Discutere Se devo discutere Perché non voglio Andare d'accordo con tutti Però quelli che sono Ingestibili A me piace tenerli Perché di solito Sono anche sempre I più forti E i più puri Sì perché Non è questione Non è sfida Perché sfida Sembra veicolata Siamo tutti Voglio dire Tutti facciamo una cosa Perché deve esserci Un risultato Un traguardo Da ragione Ma sfida è una parola Veicolata A un secondo fine No no È qualcosa Che viene dall'anima Dal cuore Trovare quella connessione E realizzare qualcosa Condiviso Lui questa cosa La dice da sempre Ma questa cosa Dimmi una cosa Questa cosa Te la porti Un po' Da giocatore Me la porto Al cento per cento Da giocatore E al cento per cento Da persona Cioè Io se ho un giocatore Come Antonio Di quel ruolo Io so cosa pensa Ma io lo pensavo Vent'anni fa Di quello che è Antonio Che gioca con me adesso Facundo Buonanotte Un 2004 Che gioca Le prime partite Nella Premier League Deve avere una cosa Giocare tranquillo E avere la possibilità Di sbagliare Sapendo che l'allenatore È un suo alleato Poi se sbagli Sbagli E risbagli Sbagli Non fermarti A prenderti il rischio Se devi prendere Perché lì Mi arrabbia Però devi Devi essere quello Di rosario Non quello che vai Con troppi pensieri Perché Perché quando giocavo Probabilmente Io avevo bisogno Di questo Tant'è che la mia carriera Che dicono Avrei potuto far di più Non è vero Io ho fatto nel calcio Quello che mi meritavo Probabilmente Non ero così Forte mentalmente Così forte fisicamente Non ero così forte Non avevo così alto livello Per poter fare Cose superiori Però io sono un talento In mano Giovane Che sia giovane O che sia inespresso È responsabilità mia Tirarlo fuori Al di là del risultato collettivo Al di là di quanto lo vendi Perché il talento Non posso bruciarlo Mudrik Non posso bruciarlo Inciso Non posso bruciarlo Buonanotte Non posso bruciarlo Colville Non posso bruciarlo È responsabilità mia Anche Roby invece Io ti voglio fare una domanda Come hai fatto Perché io Il Brighton L'ho seguito tanto Anche all'epoca Di Potter A riuscire a far giocare Che se ti rubano La palla Sei morto Ti viene Ti punta Quello che tu ovviamente vuoi Ma la domanda è Come hai fatto A fare Questo lavoro A uno dei giocatori Tra virgolette Del Brighton Meno forte Tecnicamente Come hai fatto A convincere lui A fare Ti dirà già Che secondo lui È forte Anto ma io ti devo dire Lui è la prima cosa Che ti dice La domanda è questa No ma questa è giusta Perché quelle cose Che ho visto fare A tanti Io non credo Ma io ti ho mandato Un vocale A febbraio Gennaio Dove ti parlavo Di Dunk Io non posso dirlo Tutti Tutte le volte C'è la trasmissione Sui nostri Di conversazione Finita Te lo puoi fare Cos'hai detto di Dunk No allora Questa è un'altra Io ti devo rispondere Con la verità No E questa cosa È una cosa Che io penso Veramente Io penso Di essere capace A fare l'allenatore Antonio E anche molto bene No Io penso Di essere capace Non penso Di essere Né un genio Né qualcosa in più Io ho avuto La fortuna Di avere Sempre Giocatori Forti Magari inespressi Magari poco considerati Ma giocatori forti Partendo dal primo Foggia Partendo dal primo Foggia Dove aveva una squadra Piena di talento Giocatori che avevano fatto Di meno di quello Che avrebbero potuto Giocatori magari Dove bisognava Stimolarli O farli Prendere ancora di più Consapevolezza Con Dunk Ho fatto quello Che ho fatto con tutti Gli ho dato responsabilità E probabilmente Ho alzato l'asticella Io Voi siete stati Tutti e quattro Giocatori più Di livello alto Di me Io credo che La cosa che differenzia I giocatori di livello Altissimo Con i giocatori normali Sia L'autostima Chiaro L'autostima Io penso che Se parli con Bobo Quando entrava in campo E faceva tre gol L'autostima Io dico ai giocatori miei Deve resentare Resentare Vuol dire Non deve mai superarla Però deve stare Di essere Al confine Tra La presunzione Non sfociare Nella presunzione Ma essere lì al limite Perché se no Quando tu ti senti forte E tu puoi Dribblare Chiunque Chiaro Quando tu ti senti Ma cosa faccio adesso Riesco a saltarlo No Quando ti viene a puntare Lele Quando ti puntava Un giocatore Se tu Hai l'autostima Chi ti aiuta Ad averlo È stato L'autostima Alta Io credo che sia Compito Dall'allenatore Questo Questo l'allenatore Ha Credo Margine Di lavoro Non determina Il risultato L'allenatore Io non penso Di aver mai Determinato Il risultato Invece io Robi Ti ripeto Ovviamente Tu fai l'allenatore Lo fai non bene Ma molto bene Io ripeto Di Dunk Non sono d'accordo Perché io penso Che uno step Importantissimo L'ha avuto Nell'epoca tua Perché io ripeto Con tutto il rispetto Il bene che io posso Volere a sto ragazzo qua Ripeto Da quando tu alleni lì Io vedo tutte le partite Con Lele Un giorno sì E l'altro pure Parliamo o di te O della tua squadra Non c'è un tante alternative Dunk è sempre stato Tra virgolette Un lungagnone Dove Il classico inglese Io vedendo quello Che lui ha fatto Se non ci siete dietro Io ne dubito Anzi Io sono certo Che lui Lo step In questo momento qua Addirittura si parla Di nazionale È andato in nazionale E quando è stato convocato Capisci Davanti a tutti Gli ho detto Andare non basta Deve andare A cercare di fare Il protagonista Perché Io credo Veramente Quando parli Dei tuoi figli Bravissimo Tieni microfono Giustamente Sei sempre Giustamente Tendi sempre Andare oltre Robby Se tu mi parli Di Locatelli Se tu mi parli Di Maxim Lopez Se mi parli Di Vincenzo Sarno Che avevo a Foggia O di Giglio Ottil Difensore centrale Per me È giusto Robby Però Io poi vedendo Al di fuori Ne sono convinto Di questo Perché io amo Il calcio E amo vedere Le cose belle Io vedo Le partite due Quelle di Pep Quelle di Ciavi In Italia Vedo quelle di Spalletti Poi il resto Fanno cagare tutti Però poi alla realtà Dico Io Dunk L'ho seguito tanto L'ho visto tanto C'è stata un'evoluzione Impressionante E io dico C'è solo un merito Perché È sotto gli occhi Di tutti Ripeto Fino all'anno scorso Che arrivassi te Lui faceva grande fatica Anche nella marcatura Non sentiva mai L'uomo davanti Ogni volta Che li tiravano E tre metri E lui andava Sempre allo scontro Adesso Gli ripeto Ci sono state Tre quattro partite Dove Che vi attaccavano Le poche volge Vi attaccavano In ar di rigore Questa arrivava La palla Col petto Al portiere Sì Io credo che Lo step Più grande Che abbiamo fatto Parlo del Brighton Sia quello Di vederci In Europa League Che è diverso Che lottare Per arrivare In Europa League Vederti in Europa Infatti Quella Io credo Che l'allenatore Deba Ti ricordi Quando io ho detto A Sassuolo Non firmo Per il quarto posto Che mi hanno preso Tutti per Fenomeno Quella roba lì Io l'avevo fatta Per far capire La squadra Io avrei firmato Col sangue Per il quarto posto E anche per il sesto Però io in quel momento Stavo cercando Di convincere I giocatori Che avevamo La possibilità Per Per arrivarci Ecco io credo Che al Brighton Quando loro Sono diventati Consapevoli Che potevamo Lottare Per quel traguardo Se no Non fai E questa cosa qui Anche fare tanti gole Questa cosa qua L'Atalanta Io credo che Quando l'Atalanta Mi dava Schiaffi a me 5 4 6 Ma le dava Un po' a tutti Faceva paura Perché sapevi Che quando L'affrontavi E non eri Giusto Ti massacravano E sai Se vinci 1 a 0 2 a 0 Ma se prendi 4 5 a 0 Poi vieni ad affrontarmi In maniera diversa Tu che vieni In partita successiva Capito Infatti Le partite Allora Voi avete finito La stagione In crescendo Onestamente Io le ho viste Non so Forse l'Everton Ma poi Al di là del risultato Parlo Però la stagione Finita in crescendo Ma Secondo me Dipende Da Il credere Di esserci lì Quando tu sei arrivato Lì difenderla Ti ha dato un'autostima Maggiore I giocatori Che sono entrati Tra l'altro Hanno fatto dei gol Bellissimi Uno L'altro Secondo me Crescendo L'autostima Il messaggio È più fortificato Cioè Io ho visto Le giocate Il ritmo Ti faccio un esempio Noi abbiamo fatto Una call di un'ora Io te Quando era venuto Silvio Baldini Da te A trovarti Abbiamo fatto Una call di un'ora La sera prima Della partita Col Manchester City Che gli ha dato La matematica Ok Non due giorni prima La sera prima Dove in Italia Cosa si fa da mezzanotte a luna Si sta sotto le coperte Impauriti Perché se c'è un rumore Oppure si mandano i messaggi ai giornalisti Per essere coperti il culo No ma ci sta quello Questo dobbiamo parlare dopo bene Ci andiamo bene Attenzione Perché sai Se sveglio La televisione è troppo accesa Vuol dire che Non ride Non si ride La musica La musica in pulma Un'ora Mi hanno fatto Ma oh A parlare di tutto Parlare di tutto E in quel tutto Anche del calcio Di tutto Tranne che del Manchester City La partita Che gli dava la matematica Mi hanno parlato un'ora Io E lui E Baldini E Silvio C'erano tutti i suami Dello staff Quindi eravamo in dieci collegati Da mezzanotte a luna Proprio sereni Tranquilli Il primo tempo Col Manchester City È stata una roba incredibile Il primo tempo Col Manchester City È stata una roba incredibile Il Manchester City Era la squadra Più forte del mondo A me il Manchester City Vero Si è presentato Vero Vero Il primo tempo Col Manchester City Perché tu dici Tu hai battuto l'Arsenal Hai battuto lo United Una settimana dopo Che hai perso il rigore Hai battuto il Cielo A Stamford Bridge Ok Questo è storia Ma noi abbiamo parlato un'ora Di tutt'altro Cioè la sera prima Le ha fatto un culo Le ha fatto un culo Ma sul dominio Sul protagonismo Sulla gioia di giocare Sugli uno contro uno Sul provare a calciare in porta Sulla gioia Era Sembrava l'equivalente Di una partita Ok Dietro una chiesa Portata In Premier League Che è l'NBA del calcio Di questi ragazzetti Che erano così felici di giocare C'era uno stadio Sempre con hype Sempre elevato Camel Un'atmosfera Non so Allora Lì si paga Ovviamente io la vedevo Anche in funzione tua Nelle tue emozioni Nel tuo sguardo Poi eri vicino con Peppi Guardavate Rilevate Capisci Però in funzione anche del ragazzo Che è appassionato di calcio Al di là del lavoro che fa Capito No poi Io sono partito dalla serie D Nove anni fa Io sono partito da nove Nove anni fa in serie D Ho fatto due anni a Foggia In C E quindi Step by step Mi dici Aspetta Fermati qua Per la partita di Manchester L'unica cosa che mi ha dato fastidio È aver perso il possesso palla A 60-40 Sai quando me l'ha scritto Me l'ha scritto la notte Della notte dopo me l'ha scritto Mi ha mandato Un libro così di statistiche Io avevo gli occhi che giravano Però mi ha detto Di tutti questi Ce n'è uno che mi dà fastidio A aver perso il possesso Ma glielo ho detto a Peppi Dopo la partita No Sai L'ultimo periodo È vero che avevamo una spinta in più Perché a Brighton Se ti qualifichi per l'Europa League Scrivi la storia Cioè non è come Non è come Qualificarti Con una squadra abituata A andare nelle coppe No E io spingevo Come un matto su sta cosa Spingevo proprio Da morire Adesso però ti devo fare una domanda Ovviamente Amir Dossu Guaccao Sì quella lì Quella cosa del Darfo Aspetta il Darfo Dove chiede di Pepp Pepp Pochi mesi fa Ha detto Delle cose Ovviamente Se le dice Cassano È matto Non capisci un cazzo Oppure Stima Roberto Se le dice Lele Sono fratelli Lo ha detto Io penso L'allenatore più grande Che la storia del calcio Abbiamo mai visto Ed è Pepp Guardiola Hai sentito Hai sentito cosa ha detto Lui di te Ha detto Questo ragazzo qua Ha cambiato La Premier League Che sensazioni hai Su quello che Ripeto Se lo dico io È una roba Lo dice Pepp Che lui fa un calcio meraviglioso Lui ha detto Questo qua Ha cambiato Quando è arrivato in Inghilterra Ha cambiato Il calcio qui in Inghilterra Io sono d'accordo con Pepp Però ovviamente L'ha detto lui Io sono contento Che l'ha detto lui Che capisce più di me Ed è più credibile Guardi Anto Io a lui li voglio bene Parti da questo presupposto È la persona Che mi ha aiutato di più Quando sono arrivato là Quello che ha raccontato Lele Qualche settimana fa È la verità Pensa che quando io Ho firmato per il Brighton Ho firmato tramite email Tramite fax No La famosa La pecca La pecca Ma ha telefonato lui Per farmi in bocca al lupo Benvenuto Se hai bisogno di qualcosa Quindi figurati Lui che chiama me Per accogliermi E quella cosa invece Che è successa veramente Con il Manchester City Che io ho saputo Veramente dopo È una cosa che Mi aveva Mi ha lasciato Senza parole Perché io Non lo conoscevo da Brescia Io l'ho conosciuto 12 anni fa Sono andato con Un mio amico A vedere I suoi allenamenti A Monaco E c'era Stesso giorno Stessi giorni C'era Rino Gattuso Con me Però sai Gattuso è Gattuso Aveva fatto una carriera Da calciatore A me chi mi conosceva Nessuno Io conoscevo Fisioterapista del Bayern Che è un italiano E mi ha tenuto E mi ha tenuto A me e a Gattuso 50 minuti Dentro il suo ufficio Guardiola E sembrava che parlasse A Gattuso E a Pirlo Ma non ero io Pirlo Io ero un giocatore Di B Di C Italiano E mi ha accolto Con una generosità Tant'è che quando vengono A trovarmi Gente da fuori Adesso io ospito tutti Perché mi ha accolto In quel modo Guardiola Poi dopo mi ha accolto Allo stesso modo Bielsa A Lille Qualche anno dopo Mi ha fatto piacere Leggere queste cose Per me lui è il numero uno Quindi se le dice lui Che è il numero uno A me Il numero uno Però Il numero uno Della storia Sono d'accordo Insieme Anche Sacchi Ha cambiato tanto E a pochi altri Perché io non Non considero Quelli che cambiano Il calcio O i migliori della storia Quelli che vincono di più Io ho un altro metro Di giudizio D'accordo E Mi ha fatto piacere Non so Se ha esagerato Però certo che riceve I suoi complimenti Mi mette Mi ha messo anche a disagio Non era la prima volta Che mi faceva Mi metteva a disagio E Ti dico che Sono contento Dei suoi successi Perché Non riesco a capire Come mai lui debba Dimostrare sempre Qualcosa in più Per essere Sdoganato Come quello Che ha cambiato Io capisco che qualcuno Parte col pregiudizio Di cose loro Personali No Però io vedo Tanta invidia Tanta cattiveria Nei suoi confronti Cosa che deve fare Cosa che deve fare Ha vinto 5 premier Su 6 Alle finali Si Ne ha persa qualcuno Poteva vincere Qualche champions in più Ma non è Il numero di champions Che danno il valore A guardiola Cosa che vuole Grazie a tutti.